Una app che consente non solo di acquistare i biglietti per il trasporto ferroviario e di conoscere online, orari e collegamenti, ma anche di avere tutte le informazioni sui luoghi che si possono raggiungere a bordo dei treni della ferrotranviaria, con informazioni su cultura, gastronomia e ricettività. È la novità presentata oggi dal presidente e dal direttore generale dell'azienda Gloria Pasquina e Massimo Nitti e dall'assessore regionale ai trasporti Giovanni Giannini. Con la app della ferrotranviaria sarà sufficiente mostrare al controllore il proprio smartphone oppure, nel caso del servizio che collega la stazione centrale del capologo pugliese all'aeroporto Karol Votigua di Bari-Palese, avvicinarlo al lettore ottico dei tornelli. Insomma, un'applicazione molto utile in quanto permetterà di offrire, soprattutto agli stranieri, notizie su musei, monumenti e ristoranti. Abbiamo trovato questa occasione con questa start-up che si chiama Viaggiart. Sono due ragazzi calabresi che l'anno scorso hanno vinto il premio con il migliore start-up 2014 organizzato dalla Repubblica e da Telecom Italia. Quindi attraverso la nostra app si accede alla ricchezza e cultura del nostro territorio. È un mezzo per vendere il nostro territorio ai nostri clienti abituali, ai clienti che arrivano all'aeroporto Karol Votigua. Quindi è una serie di servizi che oltre a permetterti di acquistare il biglietto elettronico e quindi non dover utilizzare il biglietto cartaceo perché attraverso l'app si possono aprire i tornelli all'aeroporto anche, hai la possibilità di sapere cosa hai intorno. Un sei, chiese, cosa offre il territorio, oltre a tutta una serie di servizi collegati, possibilità di vedere alberghi, ristoranti. L'obiettivo è quello di migliorare la fruibilità del servizio, integrandola con la cultura dei territori. Anche per questo Ferro Trambiaria ha chiuso un accordo con Ryanair per l'acquisto dei biglietti stazione e aeroporto sul sito della compagnia irlandese e a bordo degli aerei del vettore low cost. Inoltre i biglietti di Ferro Trambiaria si potranno presto acquistare anche sul network Indigo. Il progetto si inserisce in un contesto più ampio di infomobilità che riguarderà tutta la Puglia, finanziato con risorse europee, potrebbe vedere la luce già dalla prossima estate.